L'incidente è questa sera a mercoledì 10 ottobre intorno alle 18.30 in frazione Spinetto di Castellamonte all'incrocio con la Provinciale 59 per Quornier. A scontrarsi una fiespunto condotta da una donna di 54 anni di Prascorsano e una Volkswagen Polo con alla guida un giovane di 24 anni di frazione Spinetto. L'impatto è stato alquanto violento. Sul posto sono prontamente intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Castellamonte, i carabinieri di Castellamonte e del nucleo radio mobile di Ivrea. Secondo una prima ricostruzione pare che la Polo abbia svoltato in frazione Spinetto mentre stava sopraggiungendo l'appunto da Castellamonte. I sanitari della Croce Rossa, dopo aver stabilizzato i due conducenti feriti, li hanno trasportati all'ospedale di Quornier. In condizioni più serie la donna, che però non dovrebbe essere in pericolo di vita. La dinamica è il valio dei carabinieri di Castellamonte. rica. 수 Grazie a tutti.